Musica Buonasera e benvenuti qui allo Sport City per la dodicesima giornata di Serie A Si affrontano due grandi squadre, l'M Servizi Gianicolo e il De Angelis Giacinti, pallone messo in mezzo qui, sbaglia tutto però poi prova a recuperare il numero 5 Severini, l'appoggio di Severini sull'auto di destra, pallone messo in mezzo, arriva il tocco sul palo Occhio a Balsani, pallone sul mancino di Balsani e si distende per Azzolo Alla barriera schierata da Proietti, parte adesso Zangheri col mancino pallone che gira e vola Proietti che intervento Intervento su di lui regolare protesta, Luca Severini ma occhio a Esposito che può partire In mezzo c'è Italiano Esposito, vicinissimo al palo Arriva il fischio, parte Severini, la conclusione d'esterno, una deviazione e forse un autogol che sblocca il punteggio Qui allo Sport City, 1-0 per l'M Servizi Gianicolo, la punizione di Severini, una deviazione in aria Probabilmente di un giocatore dell'FC De Angelis, il gol dell'1-0 per i biancorossi Ma recupera anche Merlonghi con l'esterno, l'appoggio, Severini è tutto solo, altro gol di Vorato, pallone vicinissimo al palo Appoggio sulla destra, si fa vedere Merlonghi col destro, pallone forse toccato da Perazzolo Allora Giacinti in mezzo a due avversari, ancora Giacinti prova a sfondare il numero 5, cerca il tiro, vicinissimo al palo Giacinti Però Giacinti, Leopardi in mezzo, ancora per Esposito, il volo plastico di Proietti Pallone messo in mezzo, dall'altra parte arriva per un pelo, il colpo di testa e poi il triplice fischio del direttore di gara Proprio all'ultimo secondo l'FC De Angelis stava per trovare il gol dell'1-1 ma finisce l'incontro 1-0 Una partita decisa da un episodio, una punizione deviata, purtroppo è stata una partita che abbiamo giocato fino alla fine Penso anche bene in certi tratti della partita, purtroppo il carcio ha fatto dei episodi, una punizione ci ha condannato Però ci saranno altre partite per continuare il nostro percorso Sapevano che era comunque una partita difficile, era una buona squadra, però noi dopo tre risultati negativi ci abbiamo messo tutto E fortunatamente con impegno è arrivata la vittoria, oggi eravamo un po' rimaneggiati come nelle ultime partite Quindi abbiamo cercato di fare il meglio, ci siamo impegnati anche perché il Presidente ci tiene molto e è giusto che sia andata così oggi